Ciao, sono Francesco De Nobili, mi occupo di formazione e consulenza in digital marketing e comunicazione online. Ti aspetto al secondo incontro personal branding, anche se sei mancato al primo incontro, puoi venire lo stesso. Il secondo incontro sarà venerdì 26 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 e vedremo insieme come creare una presenza digitale corretta e promuovere i propri progetti sul web attraverso la creazione di un blog o la comunicazione attraverso i social network. Ti aspetto!